Ciao tifosi nerazzurri, bentornati! Oggi abbiamo una notizia entusiasmante per te. Jan Sommer, il talentuoso portiere svizzero, sta per diventare un giocatore eccezionale nella nostra squadra. Sì, avete sentito bene, Sommer è finalmente atterrato sul suolo italiano, più precisamente all'aeroporto di Linate, portando con sé la sua impressionante capacità di difendere magistralmente la nostra porta. Prima di continuare, iscriviti al canale, così riceverai in prima persona le prossime notizie sull'Inter, andiamo! L'attesa è finita! Dopo lunghe trattative, l'Inter ha raggiunto un incredibile accordo con il Bayern Monaco per garantire l'arrivo definitivo di Sommer nella nostra squadra. I nostri cuori sono colmi di gioia nell'annunciare che sarà il perfetto sostituto dell'eccezionale Andreonana, che ha lasciato il segno al Manchester United. Sommer è pronta a vestire i nostri colori EA e difendere la nostra tradizione di grandi portieri. Il valore della cessione è in linea con quanto ipotizzato nei giorni scorsi, i tanto attesi 6 milioni di euro, come previsto dalla clausola. Un colpo di scena notevole è che il club nerazzurro ha scelto di non ricorrere alla clausola e, come tale, non dovrà pagare la cifra pattuita. L'accordo è stato raggiunto dopo scrupolosi sforzi diplomatici e ansiose attese. E oggi, finalmente, possiamo festeggiare la stretta di mano virtuale tra Inter e Bayern Monaco. Ora possiamo affermare con sicurezza che Jan Sommer sarà il portiere di prima scelta di Simone Inzaghi per l'entusiasmante stagione 2023-2024. Siamo certi che la sua presenza in campo ci darà ancora più forza e sicurezza in difesa. Sommer è in terra milanese da ieri, domenica sera, e oggi, lunedì, si sottoporrà alle visite mediche e ieri tutte le procedure necessarie prima dell'ufficialità. Non vediamo l'ora di darvi ufficialmente il benvenuto nel nostro roster. E ora vogliamo conoscere la tua opinione. Come ti senti con questo spettacolare arrivo di Jan Sommer in nerazzurro? Sarà un portiere bravo come lo era Onana? Lascia i tuoi commenti qui sotto e festeggiamo insieme questo grande traguardo per l'Inter. Forza Inter